Allora se le ragazze vogliono pariare improvvisamente il ragazzo dice no ma che fanno Allora il ragazzo dice ma che sto combinando, parla da solo ma è tutto normale, che sto combinando, nessuno la caga Ma che vuole ma veramente face questo, io sto campando, sto vivendo, quanti anni fa Ma sentiamo l'esperto Ma che spasci ma stai facendo Prendiamo sul soggetto intervistato Ho 18 anni, dopo il 29 settembre il giorno di Berlusconi me l'ha ricordato il padre di Ariadna Ma non sono fidanzata, e sono fiera di non essere fidanzata, voglio come sto pariando Palla Si, sono fatta da due volte, una volta un anno, non l'ho mai fatta, voglio un anno Non lo so, come si chiama Facebook, domanda Poi, un'altra persona, Gianni, ho proprio scemo Ma sentiamo l'esperto Ragazzi, 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 un attimo solo Avete capito cosa ha detto? Sottotitoli dopo li metto, dopo li metto, dopo li metto, ripetito Non lo so Attenzione, attenzione Non lo so Ma hai messo? No, ma hai messo i palmi?